Oggi abbiamo presentato l'arrivo anche a Bergamo del servizio Mobike, un servizio di bike sharing a flusso libero che è già attivo in tre città italiane, siamo quindi la quarta città ad aver catturato questo servizio. Da questa settimana verranno messe 500 biciclette che potranno essere usate dai bergamaschi, molti bergamaschi già lo conoscono perché a Milano utilizzano questi servizi quando si recano per lavoro o per studio. Le grandi novità rispetto al bike sharing del comune, la BIG, sono ovviamente questo servizio, è un servizio privato, il comune ha solo accompagnato la sua attuazione e che sarà coperta tutta la città, quindi si potrà girare anche nei quartieri più esterni. Si tratta quindi di un servizio che allarga di molto le possibilità e che si integra in questa fase al nostro servizio per il futuro. Ogni bicicletta in più che gira e speriamo sia un'auto in meno che circola in città.